La biblioteca Astor di New York si è recentemente arricchita di un facsimile di un trattato medico egiziano scritto nel XVI secolo a.C. o più precisamente nel 1552 a.C., il quale, secondo la cronologia comunemente accettata, è l'epoca in cui Mosè aveva esattamente 21 anni. L'originale è scritto sulla scorza interna del Ciperus Papirus ed è stato riconosciuto dal professor Schenk di Lipsia non solo genuino ma anche il più perfetto mai visto. Consiste in un solo foglio di papiro giallo-bruno della qualità più raffinata, largo 30 cm e lungo più di 20 metri e formante un rotolo diviso in 110 pagine, tutte accuratamente numerate. È stato acquistato in Egitto nel 1872-73 dall'archeologo Ebers, da un ricco arabo di Luxor. La Tribune di New York, commentando la circostanza, dice Il papiro porta in sé la prova di essere uno dei sei libri ermetici di medicina ricordati da Clemente Alessandrino. L'editore inoltre dice Ai tempi di Giamblico, 363 d.C., i sacerdoti egiziani mostravano 42 libri che attribuivano ad Ermete. Di essi, secondo quest'autore, 36 contenevano la storia di tutta la conoscenza umana. Gli ultimi sei trattavano di anatomia, patologia, delle malattie degli occhi, degli strumenti chirurgici e di medicine. Il papiro Ebers è indiscutibilmente una di queste antiche opere ermetiche. Se un così chiaro raggio di luce è stato gettato sull'antica scienza egiziana dall'accidentale incontro di un archeologo tedesco con un ricco arabo di Luxor, come possiamo sapere quale sole meridiano può essere gettato nelle oscure cripte della storia da un ugualmente accidentale incontro fra altri prosperi egiziani ed un altro intraprendente studioso di antichità? Le scoperte della scienza moderna non sono in disaccordo con le più antiche tradizioni che attribuiscono un'incredibile antichità alla nostra razza. Negli ultimi anni la geologia, che in precedenza aveva solo concesso di far risalire l'uomo non oltre il periodo terziario, ha trovato irrefutabili prove che l'esistenza umana precede l'ultima glaciazione europea più di 250.000 anni fa. È una pillola difficile ad ingoiare per la teologia patristica ma ha un fatto accettato dagli antichi filosofi. Inoltre sono stati esumati utensili fossili insieme ai resti umani i quali dimostrano che l'uomo andava a caccia in quei tempi remoti e sapeva anche accendere il fuoco. Ma non è stato ancora fatto il passo successivo nella ricerca dell'origine della razza. La scienza è arrivata ad un punto morto ed attende prove future. Disgraziatamente l'antropologia e la psicologia non hanno un loro cuvier. Nei geologi e negli archeologi riescono a costruire con i frammenti successivamente scoperti il perfetto scheletro dell'uomo triplo, fisico, intellettuale e spirituale. Poiché si è trovato che gli utensili fossili dell'uomo diventano sempre più rozzi e grossolani via via che la geologia si addentra nelle viscere del suolo. Sembra dimostrato alla scienza che quanto più ci avviciniamo alle origini dell'uomo tanto più egli dovette essere brutto e selvaggio. Strana logica. I resti trovati nella caverna di Devon dimostrano forse che non vi fossero allora razze contemporanee altamente civilizzate. Quando l'attuale popolazione del globo sarà scomparsa ed alcuni archeologi della razza a venire nel lontano futuro scaveranno gli utensili domestici di una delle nostre tribù indiane o delle isole andamane, sarà forse giustificato se concluderà che il genere umano del XIX secolo stava appena uscendo dall'età della pietra. Recentemente era di moda parlare delle insostenibili concezioni di un passato incolto, come se fosse possibile celare dietro ad un epigramma le cave intellettuali dalle quali sono state tratte le reputazioni di tanti filosofi moderni. Come Tindò è sempre pronto a denigrare filosofi antichi, sebbene più di un distinto scienziato abbia derivato onore e credito solo dando una nuova veste alle loro idee? Così i geologi sembrano sempre più inclini a considerare sicuro che tutte le razze arcaiche fossero contemporaneamente in uno stato di profonda barbarie. Ma non tutte le nostre migliori autorità concordano con questa opinione. Alcune delle più eminenti sono convinte esattamente del contrario. Per esempio Max Müller dice molte cose ci sono ancora incomprensibili ed il linguaggio geroglifico dell'antichità ci rivela solo la metà delle inconsce intenzioni della mente. Tuttavia l'immagine dell'uomo in qualsiasi clima la incontriamo ci sorge dinanzi sempre più nobile e pura fin dagli inizi. Impariamo a conoscere anche i suoi errori e ad interpretare perfino i suoi sogni. Fin dove possiamo seguire le tracce dell'uomo anche nei più bassi strati della sua storia vediamo il dono divino di un intelletto sano che gli appartiene fin dal principio e l'idea di un'umanità che emerge lentamente dalle profondità di una brutalità animale non può più essere sostenuta. Poiché si pretende che non è filosofico fare ricerche sulle cause prime oggi gli scienziati si dedicano a considerare i loro effetti fisici. Il campo della ricerca scientifica è quindi limitato alla natura fisica. Una volta che i suoi limiti siano raggiunti la ricerca deve fermarsi e il loro lavoro deve ricominciare. Con tutto il dovuto rispetto per i nostri dotti essi sono come lo scogliattolo nella sua gabbia girevole sono condannati a far girare continuamente la loro materia. La scienza è un grande potere e non spetta a noi pigmei discuterla ma gli scienziati non impersonano in sé la scienza così come gli uomini del nostro pianeta non sono il pianeta stesso. Non abbiamo il diritto di chiedere ad un filosofo dei nostri giorni di accettare senza discussione una descrizione geografica della faccia scura della luna né possiamo costringerlo a farlo. Ma se in seguito a qualche cataclisma lunare un selenita fosse scagliato nel raggio di attrazione della nostra atmosfera e atterrasse sano e salvo alla porta del dottor Carpenter questi potrebbe essere accusato di venire meno al suo dovere professionale se non si curasse di risolvere questo problema fisico. Per un uomo di scienza rifiutare l'opportunità di investigare un nuovo fenomeno sia che li si presenti sotto forma di un abitante della luna o di un fantasma apparso nella fattoria ed è ugualmente reprensibile.